Continuiamo con questo progetto che comunque sia riqualifica colore e rende viva la nostra città. Questo è il secondo capitolo dopo aver inaugurato il sottopasso di Via Lamarca dedicato ai Camillas. Questa volta abbiamo affidato l'opera alla grande e sapiente conoscenza dell'associazione Reuro e reperti urbani di Pesaro. E loro in pratica hanno in qualche modo donato quest'opera alla città, un'opera che parla di musica perché comunque sia Pesaro è la città della musica e coinvolgendo un artista di livello internazionale. In questi giorni sono state tante le fotografie sul web, tante le persone che comunque sia passando hanno voluto fare una fotografia, hanno comunque sia manifestato entusiasmo per questa bellissima opera che fa del colore la propria radice. Quindi continueremo, a settembre è previsto il terzo sottopassaggio che è quello di Via Milano e poi se il progetto è piaciuto il prossimo anno faremo altri tre sottopassi. Associazione Reuro e reperti urbani protagonista di questo progetto, quindi che cosa i pesaresi potranno vedere nel sottopassaggio di Lorento? Potranno vedere un'opera di Geometric Bang, un artista italiano di fama internazionale che ha preso a cuore il tema musicale essendo lui stesso musicista e quindi ha lavorato sul tema jazz di musica nera, black, soul con una parte astratta nel sottopasso carrabile dove un enorme pentagramma formato da enormi campiture di colori si incastrano con una cadenza appunto ritmata e nella parte invece ciclopedonale un'enorme orchestra piena di strumenti musicali che accompagnano i passanti durante le loro traversate nel sottopasso guidati da un gigante compositore e direttore d'orchestra.